Abbiamo cambiato, dici che io non lo vedo più ancora con i bianchi. Vai, 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 vai. Non sono questi che andiamo a domenicolare? Eh no, no. Facciamo un pochino a testa. E una volta io ho baglazzato 50, juby 50, scherper e 50, pikman. No, 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 no. No, 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 no. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. vai Ale vai dai ma che stanno vincendo che così vado no dai 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 dai